Grazie consigliere. Passiamo all'oggetto numero 28, situazione effettiva dell'ospedale da campo di proprietà della regione dell'Umbria. Interrogano i consiglieri Bettarelli, Bianconi, Bori, De Luca, Meloni, Paparelli e Porzi. Illustra l'interrogazione il consigliere Bettarelli. Prego consigliere Bettarelli. Grazie presidente. L'interrogazione, come diceva lei, è in merito alla situazione effettiva dell'ospedale da campo di proprietà della regione Umbria ed è datata 19 febbraio 2021. A seguito di questa interrogazione e soprattutto a seguito del sopralluogo che ha fatto seguito, per cui quattro consiglieri hanno visitato quella struttura, è successo da un punto di vista politico e giornalistico il finimondo. È successo che i consiglieri sono andati sul giornale. È successo che il direttore generale Giannico ci ha detto che in quel luogo sarebbero state fatte delle prove, delle prove con dei malati Covid, che quella struttura è angusta, angusta, una struttura costata oltre 3 milioni e mezzo e che non ci ha potuto dare spiegazioni perché eravamo in servizio. Ma su questo abbiamo chiesto in un'altra interrogazione, entreremo poi nel merito. Quello che poi invece abbiamo capito di tutta questa preoccupazione, l'abbiamo capito il 26 febbraio, nel corso dell'apertura dell'anno giudiziario della magistratura contabile, quando la Corte dei Conti, nella sua redazione della procuratrice generale Rosa Francaviglia, dice e scrive Emblematico al riguardo è il progetto milionario per l'implementazione dell'ospedale da campo finanziato dalla Banca d'Italia e da risorse finanziarie aggiuntive. Nonostante la grave emergenza sanitaria in atto, rimane ancora priva di pazienti, per mancanza di operatori qualificati. È di tutta evidenza che, nella specie, non si verte infatti specie di opera incompiuta, bensì totalmente inutilizzata. La realizzazione progettuale e l'installazione nonosocomiali non potevano e non possono legittimamente prescindere dall'effettiva e concreta destinazione rispetto allo scopo prefissato a Monte, integrandosi in caso contrario un pregiudizio patrimoniale. Ecco spiegato il motivo di tanta preoccupazione di fronte ad aver messo in luce ed in evidenza quello che, non quello che c'era, ma quello che non c'era in un ospedale da campo annunciato undici mesi fa in Pompa Magna da questa giunta regionale con tanto di comunicati e di grande soddisfazione. Un ospedale da campo, ripeto, undici mesi fa pensato, annunciato per ospitare pazienti Covid e ospitare terapie intensive. Arriviamo nei mesi, passano i mesi, passano le settimane, sopralluoghi, inaugurazioni a fine dicembre in cui la Presidente Tisei insieme al Direttore Giannico ci dice che in quel luogo verranno messi 38 posti letto, 16 di subintensiva, 12 di terapia intensiva, 10 di degenza ordinaria, passano ulteriormente settimane e mesi in piena emergenza, in terza fase, con i malati Covid, con le terapie intensive, con le percentuali di saturazione in Umbria, più alte d'Italia, e di quell'ospedale da campo con quella finalità non sembra vedersi la fine, soprattutto vedersi l'inizio. Anzi, veniamo a conoscenza del fatto che qualche consigliere va a fare dei sopralluoghi, ci fa vedere tanto di foto, che quindi attestano come questa struttura effettivamente ci sia e ci siano delle postazioni, ci dice che verranno fatte alcune cose, ma poi altri comunicati dicono di 22 posti letto per pazienti Covid. Quindi bisognerebbe anche capire questa struttura quando partirà e come partirà, perché credo che aver investito oltre 3 milioni e mezzo per un determinato progetto, averlo annunciato 11 mesi fa e farci tutt'altro, lo dice la Corte dei Conti non lo dico io, credo che insomma qualche elemento importante di preoccupazione giudiziare, amministrativa, oltre che politica e soprattutto per la salute dei nostri concittadini vada posto. Quindi in buona sostanza l'interrogazione è volta a capire cosa è successo, quali sono i tempi di realizzazione, di apertura dell'ospedale da campo e se corrisponde al vero che le strumentazioni che erano a disposizione sono state spostate, poi riportate, poi rimesse dentro, non si sa quando e a quale titolo e soprattutto se questa struttura troverà compimento, come, quando e se le finalità per la quale sono stati presi questi soldi corrispondono a quello che lì dentro effettivamente verrà realizzato. Grazie Consigliere, prego Assessore Coletto. Grazie Presidente. Ad oggi la struttura in argomento dispone di 10 posti retto per degenza per acuti, 12 posti retto di subintensiva suddivisa in due aree, 8 posti retto di terapia intensiva suddivisa in due shelter. Si comunica altresì che tutte le postazioni paziente spostate dall'ospedale da campo al blocco operatorio Trancanelli sono regolarmente inventariate, il trasferimento è stato oggetto di verbalizzazione. Le medesime postazioni saranno riportate all'ospedale da campo laddove, se necessiti, la presenza e ovviamente quando la struttura campale sarà restituita alla protezione civile. La responsabilità e il corretto utilizzo delle attrezzature in argomento è del Professor Edoardo De Robertis, responsabile dell'unità di terapia intensiva 2. Premesso quanto sopra, è opportuno evidenziare che le 8 postazioni trasferite al blocco operatorio Trancanelli sono state finora occupate per un massimo di 4. Ciò a sottolineare che il trasferimento delle postazioni nelle mura dell'ospedale ha consentito di garantire un'adeguata assistenza con una tecnologia altamente performante, ottimizzando al tempo stesso il personale sanitario. Se i 4 pazienti fossero stati assistiti presso la struttura campale, sarebbe stato necessario attivare un turno completo di anestesisti, infermieri e ossa. Il blocco operatorio Trancanelli è infatti attigo all'unità di terapia intensiva 2 e questo facilita i percorsi assistenziali e la gestione del personale. Tale scelta organizzativa è e resterà prioritaria nel trattamento dei pazienti che troveranno sempre assistenza prima all'interno della struttura moraria e poi in quella campale, sino a quando evidentemente persistiranno queste necessità. Per quanto riguarda inoltre la localizzazione dell'ospedale da campo e la conseguente necessità di trasportare i pazienti con l'uso di ambulanze, si precisa che tale situazione era ben nota già dalla fase di allestimento della struttura, considerando che non esistono percorsi coperti che colleghino il parcheggio Taramelli con le mura dell'ospedale. Tale scelta non deve meravigliare in quanto già ampiamente praticata nella prima ondata epidemica, al fine di separare i percorsi introspedalieri, scelta ulteriormente confermata a seguito dell'allestimento dell'ospedale militare presso il medesimo parcheggio. Per quanto riguarda la destinazione d'uso più appropriata dell'ospedale da campo, dopo attenta analisi condotta anche con tre esperti di emergenza sanitaria, è stato deciso di utilizzare come osservazione intensiva del pronto soccorso per pazienti acuti Covid-19. Questa destinazione presenta un duplice vantaggio, separare in maniera definitiva il percorso sporco dal percorso pulito, destinando la struttura campale all'accettazione dei pazienti Covid-19 accertati, permettere un migliore flusso delle ambulanze, evitando attese dei mezzi di soccorso. Il trasferimento dell'osservazione intensiva necessita di un percorso di formazione per il personale sanitario assegnato all'ospedale da campo. La formazione prenderà avvio in dato 8 marzo per concludersi nella stessa settimana con il trasferimento di pazienti ricoverati presso gli spazi hobby del pronto soccorso. È doveroso segnalare che la messa a regime dell'ospedale da campo comporterà l'attivazione complessiva di 152 posti letto di degenza per acuti Covid-19, superiori di 16 unità rispetto a quanto previsto dal piano di salvaguardia per questo ospedale, pari a 110 posti letto in tramurari e 26 campani. Questi numeri qualificano senza alcun dubbio l'azienda ospedaliere di Perugia, quale principale ospedale Covid-19 della regione Umbria. Grazie. Prego, consigliere. Velocemente, perché dalle parole dell'assessore Coletto finalmente colgo e viene reso pubblico che il progetto dell'ospedale da campo, così come è stato pensato, era completamente sbagliato nei modi e nei tempi. Lei ci dice che dopo un'attenta analisi, durata fra l'altro, apro e chiudo parentesi, questo è un inciso mio, 11 mesi, avete capito che in quel luogo deve essere svolta una funzione di primo soccorso? Quando 11 mesi fa ci avete detto che quello era il luogo per le terapie intensive dei malati Covid e su quel progetto avete preso oltre 3 milioni di finanziamento. Quindi dopo un'attenta analisi, durata 11 mesi, ci viene finalmente detto che quello non è il luogo delle terapie intensive, perché ci si fa altro. E ce lo dimostra il fatto stesso che, come ha detto lei, assessore, e la ringrazio per avercelo esplicitato, gli strumenti sono stati, gli strumenti in disposizione all'ospedale da campo sono stati spostati presso la struttura ospedaliera, presso il poni clinico, perché era più opportuno utilizzarli lì. Quindi oggi, ufficialmente, ci dite che aver pensato un ospedale da campo, quindi una struttura esterna messa in un parcheggio per predisporre terapie intensive, è stato un errore. Lo dimostra il fatto che dopo 11 mesi ci va il pronto soccorso, per dividere la zona sporca dalla zona pulita, e che i macchinari, le strumentazioni in disposizione sono state utilizzate, portandoli fisicamente dall'ospedale da campo al policlinico. Quindi, complimenti perché dopo 11 mesi ci dite che quella struttura, così come è stata pensata, era completamente sbagliata. Passiamo all'oggetto numero 31, interrogazione riguardo alla revisione delle tariffe e contributo straordinario emergenza Covid-19 per le strutture di ricovero per anziani. Illustra l'interrogazione la Vicepresidente Meloni. Prego. Grazie Vicepresidente. Questa interrogazione, come sappiamo, nasce anche dopo numerose sollecitazioni, perché, come sappiamo tutti, le strutture di ricovero per anziani, pubbliche e private, svolgono un ruolo essenziale per la tenuta del nostro sistema sociale, in quanto costituiscono un'alternativa per il supporto della famiglia e quando viene a mancare, purtroppo, cominciano tanti problemi. Sappiamo che dall'inizio dell'emergenza sanitaria le strutture e le residenze per anziani sono state, purtroppo, tra le comunità più colpite dall'epidemia e quindi si sono trovate ad affrontare improvvisamente e anche con una fatica, una situazione totalmente inedita e di ampia e di grave portata. Ora, le strutture di ricovero per anziani pubbliche e private della nostra Regione hanno affrontato con il massimo impegno l'emergenza, avviando anche un percorso di adeguamento del proprio modello organizzativo e gestionale per rispondere non solo chiaramente alle esigenze degli ospiti, ma anche alle richieste di adeguamento prescritte che le autorità nazionali e regionali hanno predisposto in questi mesi per garantire la migliore prevenzione possibile del contagio da Covid-19 nelle strutture. Questo ha ovviamente richiesto un impegno sia in termini di risorse umane che di risorse economiche all'interno dell'RSA stesse, con la realizzazione anche di aree di isolamento per la quarantena, che hanno comportato la diminuzione della capacità ricettiva delle strutture, l'acquisto di DPI per uso ordinario e straordinario e anche un nuovo approccio anche interno per la struttura organizzativa e anche gestionale. Quindi questo ha comportato, come dicevo, un aggravio di costi per l'attuazione di tutte le misure anticontagio e anche per garantire ovviamente gli standard assistenziali necessari alle attuali esigenze sia degli anziani ricoverati, ma anche degli operatori sanitari che lì operano e lavorano. Purtroppo l'emergenza sanitaria non è finita e vediamo che anche per affrontare i prossimi mesi si stanno generando delle forti difficoltà di gestione delle strutture di ricovero, tutte le strutture di ricovero dell'Umbria. La popolazione anziana che risiede in queste strutture ovviamente sta diventando sempre più anziana e sempre meno autosufficiente. Quindi ne deriva che c'è anche necessità di aumento di bisogni sanitari e di assistenza. Quindi quello che noi ci preme sottolineare è che le persone anziane e più fragili sono anche quelle che hanno maggior bisogno di cure, di attenzioni, di sostegno e anche di tutele. Per questo motivo interroghiamo oggi la Giunta regionale per conoscere se intende intanto prevedere un contributo straordinario, compensativo anche dei costi aggiuntivi che queste strutture hanno dovuto sostenere, sia in termini di dispositivi, di attrezzature e di organizzazione che anche in termini di aggravio di ore per nuove e aggiuntive risorse umane. E anche se intende sbloccare, procedere quindi allo sblocco e alla revisione delle tariffe sanitarie che sono bloccate ormai da anni, in modo da recepire non soltanto i costi per gli adeguamenti organizzativi effettuati, ma anche per garantire livelli assistenziali e standard elevati che vanno incontro alle esigenze degli anziani e anche degli operatori. Grazie. Prego, Assessore Coletto. Grazie. Grazie, Presidente. La Regione dell'Umbria è intervenuta a favore dei centri di urni per anziani e per le persone con disabilità in applicazione all'articolo 48 del Decreto-Legge 18 del 17 marzo 2020, misure per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale di Sostegno Economico per le Famiglie e Lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in quale disciplina la fase di sospensione di servizi educativi e scolastici e delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri di urni per anziani e per le persone con disabilità. In particolare la Regione ha stipulato un protocollo d'intesa con le parti sociali, con delibera 232 del 1 aprile 2020, al fine di garantire agli utenti dei servizi sospesi la continuità educativa ed assistenziale attraverso nuovi servizi rimodulati e riorganizzati in modo compatibile con le disposizioni volte a contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche attraverso i telefoni ed altri dispositivi tecnologici. Altresì di garantire ai lavoratori impegnati nei servizi sospesi la continuità lavorativa in modo da evitare il ricorso all'utilizzo degli ammortizzatori sociali. In applicazione del comma 2 dell'articolo 48, per la seconda metà del mese di marzo 2020, tutti i servizi sospesi sono stati integralmente fatturati dai soggetti gestori ai comuni e alle aziende ULS e integralmente pagati dai comuni e dalle aziende ULS. Dal mese di aprile 2020, nel caso in cui i servizi non fossero già stati rimodulati e riorganizzati, in anticipo i soggetti gestori con servizi sospesi o limitati nella loro funzionalità hanno presentato una proposta di riorganizzazione o rimodulazione di tali servizi, essensi dell'articolo 48, in modo da garantire la continuità educativa ed assistenziali degli utenti che non potevano più fruire di tali servizi. I servizi rimodulati o riorganizzati sono stati così pagati. In applicazione al comma 3 dell'articolo 38, i soggetti gestori si sono impegnati a non utilizzare gli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori impegnati nei servizi sospesi che, in base all'articolo 48 stesso, sono stati rimodulati e pagati. Si è successivamente proceduto a calcolare l'istoro degli enti gestori per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020. È il conseguente impegno economico dovuto ai soggetti gestori delle strutture e dei servizi in oggetto dell'articolo 48 del decreto legge numero 18 e 17 marzo 2020, Cura Italia, tenendo conto dei servizi appaltati e di quelli convenzionati. Conseguentemente, con deliberazione della Giunta 1234 del 16-12, disposizioni attuative della DGR 232 del 2020, protocollo di intesa relativo, la Regione ha autorizzato le aziende ULS Umbria 1 a riconoscere l'istoro complessivamente fino a un massimo di Euro 866.380, nonché all'azienda ULS Umbria 2 a riconoscere gli stori complessivi ad un massimo stimato pari a 1.552.316. Attualmente si sta procedendo a riallineare i summenzionati importi con i calcoli e consuntive effettuati dalle aziende sanitarie, nonché a verificare la corretta corrispondenza con quanto disposto dal novellato articolo 4 del decreto legislativo 34-2020. Si sta procedendo inoltre a determinare le modalità di erogazione delle risorse previste dal DPCM 3 novembre 2020 del 23-7-2020, recante definizione dei criteri di priorità della modalità di attribuzione delle indendità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza all'emergente epidemiologica da Covid-19, devono affrontare gli oneri derivanti all'adozione dei sistemi di protezione del personale degli utenti, che per l'anno 2020 ammontano per la Regione dell'Umbria a 600.000 euro. Per quanto riguarda la revisione delle tariffe per le strutture residenziali e semiresidenziali ed apposita commissione istituita con delibera 13-17-31-12-2020, ha il compito di rivedere, e sta completando i lavori, i requisiti aggiuntivi di autorizzazione e classificazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali per i post-acuti e per le persone non autosufficienti, disabili adulti e minori, malati terminali e per le dipendenze e la salute mentale. Il lavoro è iniziato con un'approvazione della DGR 1492 del 20 dicembre 2018 e interrotto con la chiusura della passata legislatura. Il lavoro della Commissione, che affronterà sui requisiti e che prevede l'adozione dei requisiti in un ulteriore passaggio di giunta regionale, dovrà essere passato successivamente all'esame della Commissione regionale per le tariffe, che concluderà l'iter del procedimento, proponendo l'aggiornamento delle tariffe in tutte le tipologie di strutture in oggetto. Grazie, Assessore. Prego, Vicepresidente Meloni. Grazie, Vicepresidente. Quando parliamo di temi un po' delicati e io ascolto risposte che sono piene di articoli e di richiami legislativi che sono chiaramente anche leciti, apprezzabili e doverosi, però sostanzialmente a fronte di un anno difficile, complicato, in cui anche le strutture per anziani hanno veramente faticato a resistere, hanno impegnato risorse proprie e anche grazie alla buona volontà di chi lavora quotidianamente, grazie all'impegno dei familiari, dei residenti. E noi citiamo all'atere e a fine di questa risposta una delibera di giunta di fine anno che comunque dà mandato al Direttore Generale di costituire una commissione. Allora, noi praticamente è passato più di un anno dalla pandemia e non riusciamo a dare una risposta a nessuno. Non riusciamo a dare risposte concrete in tempi veloci, neanche laddove ci sono comunque delle difficoltà oggettive e più volte sottolineate, più volte richiamate e credo anche all'attenzione di tutti i consiglieri e quindi di tutti i gruppi politici. Quindi io capisco la difficoltà della pandemia, dell'organizzazione, dei DPCM, delle delibere, però c'è anche un momento in cui forse dovremmo cominciare a dare risposte chiare, concrete e magari anche in tempi adeguati, perché se a fine anno si fa una delibera di giunta dove si dà mandato al Direttore Generale di attuare una commissione che studia, che fa un gruppo di lavoro, cioè le risposte all'RSA che nei territori stanno in difficoltà estrema, noi quando le diamo? Cioè fra sei mesi? Fra otto mesi? Cioè è questo il problema. Vi ricordo sempre che abbiamo approvato a giugno del 2020 una mozione dove tutta questa assise, quindi in particolare la giunta, si prendeva la responsabilità di snellire tutte le procedure e i procedimenti in essere proprio per agevolare anche in un momento così difficile tutte le prassi e tutte le questioni. Allora, se noi non interveniamo in maniera snella e semplificativa di fronte a strutture come questo, anche a difficoltà oggettive di emergenza, io credo che, ripeto, i buoni propositi si trasformano in un niente. Quindi invito magari a cercare di entrare anche un po' più nel merito in maniera più concreta, precisa, puntuale e anche con una, come dire, tempificazione certa, perché altrimenti diventa difficile, penso per ognuno di noi, dare delle risposte e non continuare a procrastinare con gruppi di lavoro e di studio, perché credo che ci siano anche delle situazioni che siano ormai non più procrastinabili nel tempo, ma che vadano affrontate e gestite con urgenza e tempismo. Grazie.